anche perché forse a Catona c'è qualche problemino come dice Fortuno Serrano abbiamo un coach Carbone in viaggio dove stai andando coach? eh sto tornando a casa ho finito ho finito da poco l'allenamento e sto tornando a casa coach finalmente gli allenamenti come una volta eh sì 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 eh troppo bello troppo bello che emozione sta a tornare al palazzetto? ma certamente è una grande emozione la palazzetto per me come per la mia famiglia perché ci vede tutti in campo è una grossa tradizione quindi chiaramente è un piacere poter trascorrere il tempo in palestra anche se gli anni passano i capelli sono sempre più bianchi però andiamo avanti comunque vabbè non è parlare che anche io mi sto imbiancando modello Ravanelli strada strada per strada eh ci sono stati cambiamenti nella tua Bimboon Basket Rende rispetto al basket mercato di qualche mese fa ormai? purtroppo qualcosa sì dico purtroppo perché onestamente non avrei voluto perdere e prima eh Claudio Mazzuca che diciamo il nostro capitano quindi vecchia adozione eh che purtroppo però per motivi di di studio il progetto Erasmus che deve completare gli studi eh purtroppo è dovuto partire in Portogallo purtroppo o per fortuna bocca al lupo a Claudio perché sicuramente una cosa bellissima insomma no infatti eh poi di recente un'altra un'altra tegola ancora eh Massimo Federico purtroppo pure lui l'ho perso perché lui si è laureato in medicina eh aveva fatto tutte le le procedure concorsuali per la specialistica ma mi diceva per fare no non mi prendo non mi prendo e invece l'altro giorno poi è arrivata la chiamata e ora la prossima settimana dovrà partire andare a Milano per fare questo nuovo percorso dove chiaramente per lui è una scelta di vita dovrà stare fuori casa se non sbaglio per i cinque anni e quindi anche a lui è un grosso in bocca al lupo per tutto il futuro perché è un ragazzo che come Claudio e Massimo sono due ragazzi che meritano veramente tanta tanta roba tu hai detto purtroppo ma io dico per fortuna per loro in bocca al lupo a loro perché è una cosa bellissima complimenti a entrambi con Massimo insomma Massimo spero di non verti mai perché non voglio andare in ospedale però so che so che di strada ne hai fatta e ne farai perché sei ragazza in bocca al lupo non è né troppo lontano né troppo vicino vediamo che cosa riusciamo a a costruire scusami scusami mi ha scelato il telefono la strada è un po' lunga però insomma cerchiamo cerchiamo di fare il meglio possibile radio radiomercato qualche mesetto fa c'era ancora quaccia formato a Catanzaro parlava di un interessamento per Dimitrovic poi non si è concretizzata questa cosa il ragazzo è tornato mi dispiace molto che non si è concretizzata questa cosa però ti posso dire che il ragazzo come anche noi che l'avevamo contrattualizzato noi non abbiamo posto nessunissimo veto la cosa non è andata in porto per scelte societarie non tecniche del Catanzaro ti dico la verità quindi anzi il ragazzo se devo dire pure ci è rimasto pure un po' male perché chiaramente non sono un novellino non cioè voglio dire è una squadra dove tutto sommato posso anche giocare però la scelta è stata proprio societaria quindi non cioè non c'è stato un accordo raggiunto ma per niente quindi che ne pensi dei nuovi gironi di questa di questa divisione ma i nuovi gironi sono non lo so sono dettate da tante stranezze ma purtroppo rappresentano tutto il momento che l'Italia attraversa e c'è confusione chiaramente c'è confusione anche nell'organizzare le attività e poi vabbè poi noi abbiamo raggiunto il massimo basta solo pensare che noi applicheremo il protocollo della serie B e abbiamo impiegato tre mesi per decidere che noi potevamo fare la cosa del genere cioè su cose veramente cose all'italiana ma ormai non mi sorprendono più non mi sorprendono più e purtroppo l'ambiente cioè l'ambiente più che l'ambiente la la pallacanestro è ammalata io la paragono quasi quasi a un malato terminale e ci sono difficoltà grossissime soprattutto voi pensate per quanto riguarda questo benedetto parametro che ha inchiodato ormai gli over 23 gli over 23 ormai non li vuole più nessuno e per me onestamente è una cosa è un danno enorme per la pallacanestro e tutti i soloni che occupano le famose stanze della federazione dovrebbero interrogarsi su questa cosa e cercare di porre un rimedio laddove fosse possibile io purtroppo non sono pessimista di natura però i contatti che ho con chi opera in Puglia o Campania mi spingono a dire che noi il prossimo anno avremo non grosse grossissime difficoltà per fare i campionati di B e di Cigold perché ormai le società non ce la fanno più ormai io ti posso garantire che fra quelle che hanno confermato di fare la Cigold forse avremo altre sorprese e ci sarà qualcuno che non parteciperà quindi questo per dirti che la confusione ormai è totale la crisi si fa sentire gli sponsor non ce ne sono più quindi voglio dire è difficilissimo sì la tua analisi è sintetica però più che veritiera per l'anno prossimo Sivocica la Cigold Sicilia Calabria però anche lì bisogna capire se le siciliane sono d'accordo no 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 guarda Sicilia non ci vuole proprio a noi calabresi Sicilia io ti dico le cose per come stanno Sicilia non ce ne vuole tu devi sapere che una cosa che nel mese era il mese di agosto e io parlai con la l'attuale consigliere nazionale e federale la Margaret Gonnella che era la presidente della Puglia alla quale io chiesi in virtù di un di una riapertura termine della Cigold chiesi ma Presidente ma non è che possiamo fare noi la richiesta dalla Calabria noi siamo Cosenza Cosenza mi ha detto e come ce la mando una squadra di vieste a venire a Cosenza cioè questo purtroppo caro Gianni per farti capire per far capire a tutti gli addetti ai lavori che ognuno si guarda la propria mano e quindi si guarda il proprio territorio e quindi è naturale che i siciliani non ci vogliono i pugliesi non ci vogliono infatti non so se tu hai visto i comunicati ma le pugliesi si sono aggregati come organizzazione territoriale alla Campania no? con sette squadre e c'era stato un certo movimento che che si voleva fare che poi non è andato in porto ma non è andato in porto perché loro saranno organizzati nella Campania ma vogliono stare per loro se loro erano quattro squadre le pugliesi rimanevano per loro quattro squadre a giocare in Puglia perché ormai purtroppo abbiamo voluto in un primo tempo la regionalizzazione ora invece in virtù delle squadre che stanno morendo perché stanno morendo tantissime società si ritornerà indietro a come era prima però qua vanno poi riscritte le regole del gioco tu pensa che la cosa più anomala e più strana di questa situazione è che il comitato regionale Campania ha fatto il comunicato ma se tu l'hai visto bene ha fatto soltanto una prima fase il che è una cosa secondo me di un'illegalità paurosa perché tu non puoi fare mandare le modalità e ti fermi alla prima fase tu devi dire tutte le cose come stanno ma questo perché purtroppo non c'è chiarezza è come se per fare capire chi non se ne intende di Doha o di regolamenti FIP siamo per giocare a Monopoli che non è l'ultimo avversario della Palavra Nestro Viola è il gioco da tavolo e dico si parte dal via poi c'è scritto che si possono comprare gli hotel le case ma non c'è la fine insomma no infatti e non si capisce e questo capisce bene che non 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 garantisce granché no nel nel campionato ma non come tutela ma chiaramente una società sportiva che si mette a fare un giochino di questo tipo che comunque ha dei costi vorrebbe sapere che fine fa cioè che fine fa una cosa è certa mi sento di poter dire una cosa non si retrocederà su questo su questo perché no da 14 squadri siamo rimasti in 11 quindi non retrocede nessuno ma è una magra consolazione se poi però non si capisce come si svolge una seconda fase ma non per me io non devo fare la serie B il prossimo anno perché forza economica per poter fare la serie B non ce n'è purtroppo ancora però se uno volesse fare le cose per bene a che santo deve votarsi oppure deve fare come ha fatto quest'anno Catanzaro Reggio Calabria che poi chiamano alla società che è in bilico che sta per morire acquista il titolo sportivo e continua e va avanti però insomma è veramente una situazione molto complicata molto complicata Paolo grazie mille per il tuo intervento perché è stato veramente importante e significativo grazie grazie a te ciao Gianni buona serata attestissimo era il coach della Bimbo Basket Render Pierpaolo Carbone un intervento secondo me magnifico grazie a tutti